io mi auguro di dunque per quanto mi riguarda di continuare a fare questo lavoro impegnandomi sempre più a migliorare ad essere considerato sempre qualcuno che ha da imparare qualcosa per cui questo mi fa piacere vedere gli altri che lavorano perché da tutti gli altri apprendo qualcosa e quindi quando mi chiamano per dire no tu che c'hai esperienza no no facciamo vedere esperienza esperienza l'esperienza a volte un danno perché una routine diventa quindi mettersi a fare qualcosa ogni volta come per che fosse come come fosse la prima volta è un cominciare di nuovo e quindi apprendere delle cose nuove che prima non sapevi quindi questo è un bene